Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì 3 luglio. Ne parleremo dopo perché i giornali non ne parlano. È morto Paolo Villaggio che ha raccontato una parte dell'Italia incredibile, straordinaria. Si è inventato Zantozzi, si è inventato il Regione Fiaracchia, si è inventato quella cagata pazzesca, come disse lui, della corazzata Potionchi incontro, tutta l'idea politicamente corretto che non poteva non andare al Cineforum e fare il dibattito sul film del Cineforum. Tra poco ne parleremo perché un piccolo ricordo ve lo comunicherò. Che cosa è successo intanto sui giornali? La notizia fondamentale riguarda l'intesa 3 sui migranti. Praticamente tutti quanti i giornali oggi ci vendono questa notizia, cioè che Francia, Germania e Italia si sarebbero messi d'accordo sulla gestione dell'emergenza migranti per quanto riguarda le coste italiane. Questo è il concetto. Intesa 3 sui migranti. Repubblica dice nuovo accordo a 3, ma tutti i giornali ne parlano. Poi io ho cercato di capire in che cosa consistesse questo accordo. Adesso ve lo dico, ho letto tutti i giornali, ognuno scrive una cosa diversa e soprattutto non c'è nessun accordo. Va bene, non c'è nessun accordo sui migranti, non c'è un accordo sui migranti con Francia e Germania. Ci sono temi diversi e poi soprattutto è significativo come A. L'Italia si è andata a Parigi per discutere la cosa, non francesi e tedeschi si è venuti qua nel luogo del disastro per discuterne. B. A ragionare di queste cose sono stati i ministri di cui per esempio quello francese è un ministro che è tale soltanto da un mesetto. Che cosa volete che si possa fare un accordo quando Macron dice una cosa e il suo ministro ne dice un'altra? Tre dovrebbero essere i temi dell'accordo, tre dovrebbero essere i temi dell'accordo. Stabilire una cornice diversa sulle ONG. Alcuni giornali dicono che ci vogliono uno degli statuti più chiari dell'ONG, alcuni giornali dicono che ci vuole dei bilanci più chiari, alcuni dicono che le ONG, alcuni giornali non possono andare a prendere i migranti nelle acque territoriali libiche. Mi sveglio una mattina, come ho detto poche settimane fa, e mi accorgo che a Parigi discutono quello che Donadel, il nostro youtuber Luca e noi a Matrix, abbiamo detto cento volte, insultati da tutti. Cioè le ONG non possono andare nelle acque territoriali, cazzo c'era bisogno di vedersi a Parigi per discutere. Lo sapevamo, io penso che questo non venga ancora stabilito. Come c'era bisogno di leggere il giornale ieri per vedere che le ONG prendono dall'Europa una messa di risorse pubbliche, cioè soldi vostri che non avete l'idea? No, si sapeva. Seconda cosa che sarebbe stato deciso, sarebbe stata rafforzata la ricollocazione, cioè quella cosa per cui Italia e Grecia avrebbero dovuto ricollocare 160.000 migranti e se ne sono andati via soltanto 7.000. Ci credete? Io spero che sia vero. Devo dire che nei prossimi giorni vedremo se questo è vero. Già una legge europea, già hanno fatto un accordo europeo per la ricollocazione, c'era bisogno di vedersi a Parigi per dire che si deve rispettare. Insomma, mi sembra anche questa una cosa che non c'è. Poi sblocco di un finanziamento nei confronti della Libia. Ecco, qui potrebbero esserci soldi per la Libia affinché gestisca meglio in casa il traffico dei migranti. Sapete cosa vuol dire questo per non prendersi per i fondelli? Che i migranti vengono accolti, vengono trattenuti in Libia in campi di concentramento libici. Così ci hanno spiegato quando noi dicevamo che ci voleva un controllo in Libia di quello che stava per succedere se doveva chiudere i porti libici. Staremo a vedere. L'ultima cosa che vi segnalo è che oggi sul Corriere della Sera mi trovo un fogliettone a pagina 2 in cui c'è scritto Modello Madrid. Sapete qual è il Modello Madrid? È il muro di Ceuta. Il muro di Ceuta. Dove ci sono il filo spinato, i poliziotti spagnoli che sparano in territorio africano se vogliono superare quel... Beh, insomma, questi non erano i giornali che ci spiegavano che Orban, che i muri, il Papa dicendo non ci vogliono i muri e l'attacco a Trump per i muri, eccetera. Poi il Modello diventa il modello di Ceuta dove hanno alzato un muro in Marocco per non far arrivare i marocchini in Europa. Ma stupenda. Riguardo alla politica, due notizie. La sinistra, ve la sintetizzo, del PD è in fibrillazione. Intervista oggi a Cuperlo che dice vado nella piazza, sul Corriere vado nella piazza di Pisapia ma arresto nel PD. Intervista a Orlando che dice se Renzi dovesse fare un accordo con Berlusconi ci vorrebbe un referendum tra gli iscritti del PD. Io dico ma perché non leggete il segretario? Fate un referendum continuo, tanto ne perdete uno dietro l'altro. Fate un referendum continuo, ma che senso ha? Ha senso che Renzi poi gli risponde in maniera ovviamente telefonata. Guardate che rinunisce a governare con Berlusconi, siete stati voi con Bersani. Quindi non mi sembra che abbiate fatto un referendum in quel caso. Altra questione politica riguarda il fondo del giornale di oggi in cui Sallusti se la prende con un tweet di Salvini che dice, Salvini accuserebbe in questo tweet del giornale di non aver dato conto che nei sondaggi la Lega è forte. Per Repubblica la Lega è sotto Forza Italia, per il Corriere è sopra Forza Italia. Mi sembra che sia questo quello che è successo nei sondaggi di cui vi ho dato conto anche io nella zuppa di ieri. Ebbene, Sallusti se la prende con Salvini e dice, Salvini, se anche l'altro Matteo fa il bullo, guarda bene il giornale invece prima di dire che noi siamo il giornale della famiglia Berlusconi e che neanche a Cuba, come avrebbe scritto in questo tweet, Salvini. Se la vedessero tra di loro, un po' come Orlando e Renzi. Due altre cose, altre tre cose. Ernesto Ruffini è il nuovo capo di Equitalia e di Eleggenze delle Entrate. Il nome è identico, cambia il nome ma rimane tutto quanto uguale. Ma la cosa che mi fa ridere è che questo Ruffini non parla praticamente mai. Perché cosa interviene? Interviene perché ieri Repubblica racconta per la penna di Sergio Rizzo che passa dal Corriere a Repubblica come vice direttore la strana storia di una coppia di gay che hanno visto riconosciuta la loro unione civile grazie alle leggi dello Stato e la coppia di gay non è riuscita nel 770 a far valere le sue detrazioni perché il 770 non riusciva a concepire l'idea che potessero essere due uomini o due donne che chiedessero le detrazioni per il rispettivo coniuge. La cosa ovviamente è assurda e la cosa è sbagliata perché c'è una legge che è passata e la legge sulle unioni civili ha proprio il senso di garantire alle coppie omosessuali gli stessi diritti delle coppie non omosessuali. Dico io però, dico io però, porca puttana, in questo mondo del politicamente gay friendly del politicamente corretto dello straordinario Ruffini il primo intervento che fa è per dire che si sente indignato perché una coppia gay che ha usato le unioni civili non riesce a fare le sue detrazioni. Ruffini, ieri il 30 giugno noi 20 milioni di contribuenti italiani, bianchi, rossi, gay, lesbiche, alti, bassi, puliti, sporchi, abbiamo avuto tanti di quei cazzo di casini nella compilazione della nostra dichiarazione di redditi, il cassetto fiscale che non funziona, lo speed che non funziona. Hai mai provato Ruffini ad andare sul cassetto fiscale e a vedere per esempio tutti quanti i tuoi contributi come sono messi, non c'è messo neanche, c'è scritto la partita IVA? Hai mai provato a vedere che cosa vuol dire raccapizzarsi intorno a un unico? Hai mai fatto un unico Ruffini? Allora tu ci vieni a rompere le balle? Hai mai controllato l'automatismo tra le spese sanitarie che sarebbero dovute essere state automatizzate e il comportamento dei CAF che ti dice no, 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 porta ancora i pezzettini di carta perché si sbagliano? Allora noi in tutto questo cavolo di barasma per cosa interviene Ruffini? Interviene per un pezzo di sergiorizzo sulla Repubblica, sacrosanto, ma che riguarda una coppia di gay che è l'uno per un milione dei casini che avvengono nel fisco italiano. Bravo, bravo Ruffini. Politicamente corretto, non ne sbagli una e sarai molto apprezzato dalla comunità gay che io adoro, che non è questo il tema. E i gay single secondo te non hanno avuto problemi a fare la dichiarazione dei redditi? Ma guarda che cos'è, ma guardate che cos'è lo speed, guarda che cos'è il tuo cassetto fiscale, guarda che cos'è l'incrocio dei dati, guarda che cosa vuol dire essere sottoposti a un accertamento fiscale. Il tuo primo intervento, su che cazzo lo fai? Su un caso più raro che nulla. Vabbè, Ruffini, complimenti, verrai apprezzato da Repubblica che peraltro deve sostituire ovviamente nel suo apprezzamento Ruffini alla Orlandi perché la Orlandi, donna di visco, non vuole mollare l'agenzia delle entrate, anzi si è autonominata vice direttore dell'agenzia delle entrate prima ancora che Ruffini arrivasse. Quindi che cosa fa Ruffini? Come sempre in Italia, come possiamo dire, si para a sinistra, si para nel politicamente corretto. Leggetevi la mia recensione ieri di Ricolfi, se avete tempo sul giornale l'ho messa su nicolaporro.it e vi spiega, Ricolfi, cosa vuol dire essere politicamente corretti. Infine, 85 mila persone per 30 posti in Banca d'Italia. Massimo Giannini lo commenta e dice che i giovani generazioni dicono in questa maniera che loro della precarietà non la vogliono e che in realtà la risposta del governo è quella del Jobs Act. Quindi non si dovrebbe fare il Jobs Act perché i giovani vogliono avere il posto fisso in Banca d'Italia. La mia obiezione è che questi giovani che cercano il posto fisso in Banca d'Italia, lo cercano intanto comprensibilmente perché è come se io cercassi un posto fisso in un giornale, nel giornale degli anni 80 in cui non sono licenziabile, in cui prendo gli scatti. La Banca d'Italia è una specie di roba che è stata cristallizzata dagli anni 50 e portata nel prossimo secolo. Non sono licenziabili, se commettono errori hanno questa aura di insindancabilità, sono i fenomeni. È chiaro che vogliono far parte della Banca d'Italia perché la Banca d'Italia è l'unico residuo del passato super pregato, illicenziabile e se fanno i casini come si dimostra sulle banche, zitti e muti, nessuno si permette di dire perché i funzionari della Banca d'Italia, sto cavolo i funzionari della Banca d'Italia, vogliono andare lì perché quello è un orto protetto. Ma dal fatto che quello sia un orto protetto non vuole mica dire che tutti gli italiani, tutti i giovani italiani vogliono andare nell'orto protetto, ci sono anche dei giovani che sanno che quell'orto protetto verrà spazzato via nel futuro e non voglio più vedere e sentire questi 30 che verranno assunti piagnucolare, pensavo di avere il posto fisso. No, io fra 30 anni non vi voglio nel posto fisso. Seconda cosa, cari miei, ci sono centinaia e migliaia di giovani italiani che studiano e si fanno un mazzo così e che certo che proveranno pure ad entrare in Banca d'Italia perché i genitori glielo dicono, perché loro vogliono avere una sicurezza, ma le cui ambizioni sono quelle di fare molto di più nella vita che i funzionari di una specie di dinosauro del passato, me lo auguro. Su Vasco Rossi, bellissimo, oggi l'inchiesta fatta dal giornale perché me lo sono chiesto io, quanto di soldi si è guadagnato Vasco Rossi per quel mitico concerto? Beh, 36 milioni di euro, insomma, lotta alla paura, tutto quello che volete, però grazie al cielo ci ha fatto i soldi, la disuguaglianza fa bene, 36 milioni di euro per una sera e quindi tutti quanti quel popolo di sinistra, 36 milioni per una sera, io sono con lui, bravo Vasco, hai fatto bene, 36 milioni di euro in una sera, bene, Di Pollina oggi ci spiega tutto il casino che è avvenuto sui social qua, su Facebook, per il fatto che Rai 1 ha trasmesso il concerto ma non ha raccontato che non poteva trasmetterlo tutto perché non aveva i diritti, 36 milioni si è preso Vasco Rossi, ne poteva fare soltanto dei pezzi, dei larghi pezzi, quindi ha dovuto intercalare il concerto con Bonolis, la gente si arrabbiava perché c'era Bonolis ma non sapeva che non poteva mandare tutte le canzioni e giustamente Di Pollina oggi su Repubblica dice, ma scusate Rai, potete dirlo che non potete mandare tutto il concerto, avete fatto un po' i fighetti e ve la siete presa in quel posto dai social, ciao ragazzi, l'ultima cosa è venuta a mancare, non è sui giornali, Paolo Villaggio, l'ho avuto a Matrix ospite recentemente, l'uomo, lo potrete trovare sul sito di Mediaset, beh insomma mi ho fatto un'impressione incredibile, era già un po' andato, vi dico la verità, ma era lucido nella sua voglia di voler ancora stare con i suoi amici che erano in quel caso il mio amico Shekigori, il mio amico Vanzina, i registi, insomma vi potete vedere il grandissimo villaggio nei tanti video che lo renderanno immortali e anche se volete nella piccola intervista fatta da Matrix, ciao!